Salve a voi, questo messaggio arriva da un tempo differente. Io sono Enrico, Gabrielli, e mi sono occupato di musica per una vita. Ho fatto cose più o meno note, alcune di queste per voi sono future. Ma c'è un progetto che non sono mai riuscito a realizzare e ora ho capito che sarebbe stato importantissimo farlo. Se grazie a voi ci riuscirò, sarà il vostro presente e un miglior passato per me. È un progetto di Enrico Gabrielli e Sergio Giusti sviluppato assieme a un gruppo di filmmakers. Quello che vogliamo fare è una cosa a metà tra un film documentario e una performance. Una simulazione di otto ore di lavoro in fabbrica dove, anziché stare al torno o produrre bulloni, si scrive e si suona musica su turni da catena di montaggio. Per questo assumeremo in qualità di musicisti operai 60 persone, che suoneranno, in uno spazio industriale. Indossate le tute da lavoro, la metà verrà messa a scrivere su 30 tavoli e l'altra metà ad aspettare davanti a 30 leggi. Finito il momento della scrittura, chi aspettava dovrà eseguire ciò che è stato scritto in una sorta di interplay estemporaneo di massa. I tempi saranno rigidamente stabiliti e, una volta finito il turno, le due squadre si invertiranno. La squadra compositori diventerà la squadra esecutori e così in alternanza fino alla fine della giornata. Non è un gioco. Saranno decise pause e tempi realistici, compresa la pausa a pranzo. E sarà ripreso tutto, anche le conversazioni di servizio, i commenti, i dubbi, la stanchezza. La squadra documentaristi si limiterà però ad osservare e registrare senza intervenire o intervistare. Innescando questa operazione ibrida fra esperimento psicologico, performance e improvvisazione, noi vorremmo solo esaminare il fenomeno per fornire un documento aperto. Nessuna tesi, quindi. Ognuno traga le conclusioni che ritiene valide su cosa significhi lavorare con la musica e con l'arte. Chabier Iriondo Bruno Dorella I Ministri Giulio Favero Dente I Morcobot Eugenio Finardi Gli Zen Circus Vasco Brondi Rodrigo Derasma Steve Piccolo John Parrish Gli Zeus L'Arsenale Roberta Samarelli dei Verdena Vincenzo Vasi La tempesta tutta La trova robato tutta Fritz Dacat Stefano Pilia Giorgio Canali Zona MC I Baustel I Selton Manuel Agnelli Io sono un cane La Fuzz Orchestra Davide Toffolo Giulis Herkat Cesare Basile Francesca Bigliotti Sono solo alcuni di quelli che si sono dichiarati risorse umane disponibili e verranno mescolati sia i musicisti meno noti sia a chi di musica completamente digiuno Questo perché in una fabbrica dove la produzione è serializzata non si presuppone che un operaio semplice debba avere specifiche competenze E l'ego è livellato su una norma comune Il nome di questo lavoro sarà Unità di Produzione Musicale Tutto questo ha bisogno però di fondi importanti per essere realizzato Consideratela una battaglia creativa contro i mulini a vento dell'industria culturale Un soggetto in crisi che ha bisogno di essere digerito attraverso idee il più possibile libere e autonome Dunque politiche Cultura è politica L'intrattenimento è fatica Il futuro è passato Dateci una mano Ne sarete orgogliosi Grazie a tutti Grazie a tutti.